Oggi proviamo l'Eila KTM 390 Adventure E allora lasciate che ve la descrivo un po' al volo KTM 390 Adventure Telaio a traliccio tipico di KTM Motore monocilindrico da 373 cm3 che sprigiona 44 CV Forcella WP Apex da 170 mm di escursione regolabile in precarico ed estensione Mentre il mono sempre WP Apex ma regolabile in precarico ed estensione L'impianto frenante è affidato comunque a Brembo anche se da qualche parte c'è scritto buy brake Come sapete è sempre produzione Brembo ma con altro marchio Quindi comunque la frenata è interessante anche perché c'è l'ABS cornering di Bosch Pur in assenza di una piattaforma inerziale Per il resto l'elettronica è completissima perché si parla anche dell'MTC Quindi traction control avanzato però solo su due livelli Quindi on e off di KTM e ABS in due modalità Strada con il sensore attivo su entrambe le ruote Oppure off road che stacca l'intervento al posteriore Continental TKC sono le gomme che sono montate rispettivamente su un cerchio da 19 all'anteriore e da 17 al posteriore Questo è lo scarico che magari sembra un attimino uscito da Aliexpress Ma questo è un dettaglio però suona anche discretamente bene Dimenticavo solo la frizione antisaltellamento dal punto di vista dell'elettronica E soprattutto dimenticavo il prezzo perché questo fa la differenza su questo tipo di moto Parte da 7.350 euro una cifra pazzesca per questo tipo di moto con questa dotazione Non vi ho detto nemmeno che Marco il proprietario ha aggiunto il quickshifter in salita e in discesa che è un burro Ma ora saliamo in sala e vi faccio prima sentire il sound e poi andiamo Non male Oh ok Dunque oggi grazie a Marco che ringrazio per questa prova Siamo a bordo della KTM 390 Adventure Un modello che ha fatto molto discutere perché KTM è entrata in un mercato generalmente senior Con un modello però pensato per i più giovani perché non è detto che i più giovani siano interessati solo alla sportiva o alla naked Possono essere interessati anche a una soluzione di questo tipo per diventare provetti avventurieri Già da subito KTM non risparmia su nulla quindi qui la dotazione di ciclistica e freni è di primo ordine così come lo è l'elettronica Ma partiamo dagli albori prima di andare poi a verificare tutto ciò su strada La moto è equipaggiata con un monocilindrico da 373 cm3 che eroga una potenza di 44 CV Quindi siamo assolutamente vicini ai livelli della mia Tenere Anche in generale la moto è vicina alla Tenere come impostazione perché comunque parliamo di una avventuriera Con un cerchio però da 19 all'anteriore non 21 Quindi avventuriera sì ma che predilige sicuramente un uso misto Non è specifica come una moto col 21 davanti ma non è neanche troppo stradale come una Tracer per intenderci Col suo 17 davanti La dotazione invece ciclistica prevede delle sospensioni VP Apex tipiche per KTM Che sono regolabili in compressione ed estensione all'anteriore e precarico ed estensione al mono Da questo primo tratto cittadino che anticipa le curve che ora inizieremo di Castel del Monte Vi posso dire che nel quotidiano così veramente viaggia sulle asperità davvero davvero molto bene Anche grazie ad un'escursione piuttosto pronunciata Il reparto freni annovera un monodisco all'anteriore Che però da quello che sto provando in queste prime curve garantisce una buona potenza frenante E anche ovviamente un monodisco posteriore Quello anteriore da 320 quindi dimensione già piuttosto interessante Ma adesso magari lo proviamo nel dettaglio con una frenata un po' più convinta Beh sì la frenata c'è tutta La moto molleggia un po' la sento un po' morbida davanti Ma probabilmente anche un setting su cui si può intervenire Dato che le sospensioni sono regolabili Sì sicuramente l'anteriore affonda un po' Ma chiaramente qui possiamo anche andare a gestire il tutto Intervenendo con le regolazioni che vedete sono qui molto carine Già con questi ausili per andare a fare gli scatti senza bisogno di chiavi Perché non lo fanno tutti? Perché molti brand si ostinano invece a mettere la vituzza da girare col cacciavite? Non ha senso è molto più comodo così Trattandosi di una Tourer poi troviamo alcuni elementi tipici di una moto di questo tipo Quindi un cupolino devo dire la verità non altissimo I paramani KTM che funzionano sempre molto bene belli completi Un manubrio che si avvicina molto bene alle vostre braccia Regala una posizione di guida aggressiva ma anche rilassata Proprio in pieno stile Duke Essendo una turistica vedo anche qui una bella porta a 12 volt per la ricarica del telefono Del GPS e di quello che è Ma parliamo invece di ciò che adoro di questa moto Come di tutte le KTM cioè i blocchetti Tanta tanta logica in questi blocchetti Che si raggiungono col pollice sinistro in modo semplicissimo Il TFT qui è lo stesso dei modelli top di gamma Quindi tramite delle semplicissime freccette Perché bastano quelle Possiamo andare ad interagire con i menu Qui vediamo Conta gira elettronico Conta marcia Arrivano fino a 6 Non manca una marcia come sono a tenere ABS ed MTC MTC sarebbe il traction control di KTM Icona della temperatura e della benzina Per il resto guardate ci sono anche le informazioni Sull'autonomia stimata Sulla batteria e sui trip Se poi entriamo nei menu Abbiamo la possibilità di utilizzare il KTM MyRide Che a memoria dovrebbe essere l'applicazione Vedo che Marco non ce l'attiva Ma si può installare l'applicazione per collegare il telefono Motociclo abbiamo la possibilità di andare a gestire L'MTC e l'ABS Settandolo su varie mappe Per l'ABS se entriamo qui abbiamo off-road Si stacca penso solo l'ABS posteriore E invece l'MTC lo abbiamo on o off A seconda delle preferenze Diciamo che con 44 cavalli il controllo della trazione È sicuramente buono avercelo Ma non è determinante Marco mi diceva che ha di recente aggiunto il quick shift Che io non ho ancora utilizzato Dovrebbe essere up and down E infatti sì E che burro ragazzi Funziona veramente che un burro Wow Mamma mia Ottimo Ottimo quick shifter Eh guardate l'allungo c'è fino sui 120 Poi un po' si spegne Proprio come la Tenere Proviamo scalata Uno Due Grandioso sto quick shifter Grandioso Anche la frizione risponde molto bene Però una volta che avete il quick shifter Che l'avete pagato Lo usate no? Sembra di stare sempre con una marcia Di troppo Ma in realtà poi non è così Guardatela In curva scende bene Perché il 19 Regala buone soddisfazioni Comunque sì Una moto che vi porta Con pochissime vibrazioni Non come la Tenere Con cui il paragone ci sta Perché alla fine È diversa la cilindrata Sì 600 cavalli Sì Una notte che è una Lamborghini 600 centimetri cubici Il mono cilindro della Tenere Quello di questa KTM 390 Adventure È da 373 Quindi è praticamente la metà quasi Però poi la potenza sprigionata È molto molto simile Forse azzarderei dire Che la Tenere ha ancora oggi Un po' di coppia in più La mia Tenere Ma è probabilmente Solo un dato così Lanciato Ma tutto da verificare Cupolino insospettabilmente Fa bene il suo lavoro Per essere così basso Però diciamo Che fosse stato Un po' più alto Avrebbe tolto un po' di vibrazioni Alla testa Diciamo che in questo momento Mi protegge bene Più o meno fino al petto Oltre No La testa è Sostanzialmente esposta all'aria Il serbatoio Che è da 14 litri e mezzo Occhio a non sbagliare Non gliene date 15 Perché lui ne ha 14 e mezzo Se non erro con un litro e mezzo Di riserva Si stringe molto bene Con le gambe Anche perché la posizione Delle pedane È solo in parte avanzata Non troppo Quindi si riesce Veramente a stabilire Una bella forma Qui nel serbatoio A stringerlo bene E si riesce ad avere E si riesce ad avere una posizione Anche molto comoda Per i viaggi più lunghi Poi sarebbero da valutare I consumi qui Perché con questa cavalleria Con questo motore Sono sicuro che siano Davvero tanto contenuti Siamo appena arrivati In corrispondenza delle curve È arrivato il momento Di vedere appunto Le doti dinamiche Uh Di questa 390 Adventure Come si infila bene In curva Caspita Molto bene Molto bene la ciclistica Davvero precisissima La metti lì E lei sta Assurdo per una moto Di questa cavalleria Di questa fascia di prezzo Proviamo la guida in piedi Dato che ci siamo Uh Ma che comoda Anche in piedi Caspita Comodissima Si riesce a stringere Molto molto bene La sella Con le ginocchia E anche il manubrio Alla giusta altezza Per consentirvi una guida In controllo Anche quando andate appunto A guidare in offroad Vi posso dire Che la moto Scende Veramente molto rapida In piega Ed è anche precisa Wow Che burro il quickshifter Ve lo stavo dicendo E confermo il tutto Anche in discesa Una marcia giù Due marce giù Tre marce giù Fantastica Le gomme Bisogna capire Come sono sistemate Non mi danno Una grandissima confidenza C'è da dire Però Il 19 all'anteriore Si ormai Mi trovo veramente Molto bene con lui E secondo me La giusta dimensione Per la strada Se non si vuole fare Un uso troppo sportivo Per il resto Come vi dicevo La moto Ha una posizione di guida Interessante Perché carica Leggermente l'anteriore Pur restando Molto comoda Con un manubrio Molto largo Che vi facilita Nelle manovre Quello che io Veramente non posso vedere Sono questi cosi qua Questi specchietti Ma KTM Ma cosa aspetti A cambiarli Sono orridi E' l'unica cosa Orrida Di questa moto Come di tutte le altre KTM D'altronde Il cupolino A guardarlo così Sembra basso Sembra ininfluente In realtà vi posso dire Che fa abbastanza bene Il suo lavoro Perché comunque Vi ripara dall'aria Almeno fino al collo Non l'avrei mai detto Quando l'ho visto Ho detto Ma che è sta cosa Siamo sicuri che c'è una turistica Sta moto E invece si Il cupolino fa bene Il suo lavoro Mi hanno stupito Anche i freni Perché infatti I freni Pur essendo solo due pinze Perché ci sono Solo due dischi La potenza frenante C'è tutta Quindi si riesce Veramente a pennellare Con calma Quello che andrei a rivedere Dato che si può fare Con il setting È la Soprattutto la compressione Della forcella Perché in frenata La moto Dal mio punto di vista Scende un po' troppo Mentre il modo dietro Lavora Che è uno spettacolo Ma guardate il motore Raga Praticamente i cavalli Della Tenere Un motore più piccolo Che sprigiona Gli stessi cavalli Anche la coppia È molto interessante È un motore divertente Assolutamente divertente Quick shifter Anzi Blipper Due marce giù Tre marce giù Alla grande Veramente alla grande Uh E come esce Siamo a manetta Ho già testato prima Fino ai 120 All'incirca Stavo perdendo un piede La moto sale E anche molto bene 120 si ferma Però ragazzi È un 350 Un 370 Quindi non si può andare Molto distanti Da questi valori Guardate però Qui come interviene Perché questo asfalto Io lo conosco bene Anche qua L'antisaltellamento Ha dato una bella mano Ma questo asfalto È discretamente scivoloso Talvolta Scivolicchiava un po' La moto Il traction è entrato Ha corretto il tutto Grandioso Ragazzi Per concludere Quindi su questa KTM 390 Adventure Progetto geniale A 7.350 euro Ve la portate a casa E siete felicissimi Per i primi anni Della vostra patente a 2 O magari anche se avete la 3 Ma non volete una moto Eccessivamente gravosa Sui consumi A spanne Siamo come minimo Sui 25 al litro Se non Qualcosina di più Addirittura Quindi Brava brava HTM Queste sono le moto Che mi stanno piacendo In questo periodo Qui abbiamo La possibilità Di usarla In città Senza avere Problemi Particolari Ma anche Di fare Dei piccoli viaggi Godendocela Come proprio Stiamo facendo ora In più C'è la componente Offroad E con il 19 Lo fate comunque Una moto Con tanta Altezza Da terra Che vi permette Quindi di affrontare Anche degli offroad Semplici Non troppo impegnativi Ma come quelli Che fanno la maggioranza Delle persone Che si comprano il GS No? Quindi se lo fanno Loro col GS Lo potete fare voi Con la 390 ADV Per questo video È tutto Io vi saluto E ringrazio ancora Marco Per avermi concesso Il suo mezzo Per questa prova E noi ci risentiamo In un prossimo video Ciao Grazie Marco Per la prova Sembra così Che l'abbiamo già fatto Questo Ora sei proprio Preciso Perfetto Va bene La moto Mi hai detto Che consuma anche 35 al litro Uno spettacolo Va bene Buona strada Grazie Ciao Grazie a tutti